Allora, partenza spettacolare con un pesce che tira... Gianni! Meno male che sono ciornio! Siamo a Piana Crixia... Aspetta, che devo montare il guadino. Siamo a Piana Crixia... Beh, dillo! Nello splendido ambito del Bormida di Spigno, Giornata abbastanza piovosa... Urca! Giornata abbastanza piovosa... Direi abbastanza tanto piovosa... Scusate un attimo, eh! Guardatevi un po' di rosso! Ci stiamo apprestando... Ci stiamo apprestando a fare la prima cattura della giornata... Se ci riusciamo... Se ci riusciamo, ovviamente! Speriamo... In un'attasi di non sappiamo che cosa... Però tira da morire... Da morire, no! Sono io che ho paura di non tirarla fuori... E come esca abbiamo usato un lombrico... Abbiamo una bombarda a segna affondante da 20 grammi e una carpa... La possiamo vedere... La possiamo vedere... Intravedere... Un amo... Del 2... No, del 5... Vabbè, che cazzo è? E... Pastura da cavedano barbo... Pastura da cavedano barbo rossa... E... Ciao, ciao, ciao! 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 Ciao!